buongiorno buongiorno cari amici nel mondo in Brasile in Europa dappertutto dal comelico sorridente come sono sempre vi mando i miei saluti di buona domenica oggi abbiamo il terzo advento il 16 dicembre del 2018 è un giorno di festa e a tutti auguro una gran buona domenica come ho promesso ieri sera in diretta ho detto anche domani trasmetterò in radio un piccolo passaggio delle campane di costa che rallegri tutto il mondo assieme a noi ascoltiamo un piccolo passaggio delle campane di costa ecco le belle campane di costa che rallegrano tutto il mondo che lo ascolta è successo ieri sera che ho trasmesso alle 9 ora europea che sarebbe le 18 in Brasile ho trasmesso il suono delle nostre campane come lo faccio ogni sera fino a Natale e tanti mi hanno salutato mi hanno mandato gli auguri i ringraziamenti i baci i cuori di tutto è sempre una gioia essere presente insieme a voi una diretta che presento ogni sera adesso da costa ma il più bello è stato quando la mia maestra o la mia la nostra maestra che 60 anni fa faceva scuola a costa mi ha scritto mi sento di nuovo bambina mi sento di nuovo bambina il più bel complimento che ho sentito questa sera grazie maestra nadia con tutto il rispetto tanti auguri buona domenica e ci sentiamo ancora grazie per aver partecipato e essere sempre presente alle nostre avventure le nostre trasmissioni già che ci sono devo salutare un mare di gente perché ci sono tantissimi che dovrei salutare e non riesco a salutare tutti ma qualcuno provo a salutare ci sarebbe un mio figlioccio che abita anche nuova venesa e moacir antonelli uno dei partecipanti al corso di cucina che abbiamo fatto tre anni fa antonelli è stato uno dei più bravi più presenti era sempre pronto a copiare tutto quello che si presentava sempre notato tutto quello abbiamo dichiarato e insegnato e antonelli alla fine quando ci siamo salutati è venuto da me e ha detto io ti prendo come mio papi adottivo allora caro figliolo da costa dal comelico ti mando tanti tanti saluti questo era il tuo papi che ti ha salutato poi già che ci sono anche amida tanti saluti la giornalista devo salutare per forza ma quella devo salutarla per tedesco liebe admina amida tanti saluti al costa del comelico tal alles gute e wünsche Ihnen una fredda belle totale amida amida Dopo continuiamo con gli amici, oh quanti ne sono, Sani e Ruggero, Nelly e le figlie, la famiglia Evandro Gava e Tiziana che hanno presentato i loro figli, la fotografia con i loro figli, la famiglia così bella, sorridente dopo c'è naturalmente Tania e Desio con i figli, sorelle, fratelli e non dimentichiamo Gioselino, il nostro caro amico Gioselino e Doda, certo anche Doda è sempre presente, dopo c'è Ademir, caro cognato che è il papà di Paola una bellissima ragazza, la conosciamo, cara ragazza, è una famiglia così simpatica e cara e gentile ce ne sono poche in giro, tanti saluti e buona domenica anche a voi e dopo c'è il nostro Giosi, è logico, dopo c'è la roba da Ciodi, anche a quelli mando un caro saluto da Costa abbiamo sentito le campane, hanno suonato anche per voi, rallegratevi accogliete il nostro suono come un segno di grazia, di bene, di bello che vi arriva dall'Italia godiamoci sempre queste piccolezze, sono cose belle da ascoltare e da godersi pensate io oggi purtroppo devo separarmi da mia sorella che riparte per la Svizzera i figli, il mio nipote Andreas e mia nipotina Claudia sono venuti a prendere la mamma e la riportano a casa dal marito, ha trascorso un piccolo periodo da me, assieme a me abbiamo fatto dei lavori in casa e adesso lei riparte per la Svizzera e io rimango di nuovo solo, ma non ho paura di rimanere solo perché il nostro caro Gili ma già ha vendito che arriverà per fine anno, così ci sarà Gili, ci sarà lui poi non so ancora chi arriverà e festeggeremo assieme per noi c'è sempre movimento, c'è sempre allegria e noi ci divertiamo e salutiamo tutti voi in Brasile e nel mondo che ci ascoltate venite in Comelico, il Comelico è sempre aperto, sorridente, fresco pensate Realdino ha scritto oh come vorrei essere lì in montagna assieme a voi venite ragazzi, venite che siete benvenuti non solo la roba da ciodi, assieme alla roba da ciodi dovete venire che qui il posto c'è e noi li accogliamo tutti adesso che abbiamo anche la Madonna di Caravaggio di Nuova Venezia, Caravaggio, la Madonna che hanno regalato al nostro Don Fabio che abbiamo fatto il piccolo capitello lì ci siamo riuniti tutti insieme per la Santa Messa ragazzi venite, godetevi il Comelico il calore, vi aspettiamo tutti quanti e se portate roba da ciodi assieme a voi siamo ancora più contenti dal Comelico, da costa in allegria e col sole che splende anche se è freddo siamo sotto zero noi qui varia da 5 a 10 fino a 12 gradi sotto zero voi siete il sole godete il sole, noi godiamo il fresco ma fra di noi arriverà anche tra poco la neve sicché cari amici buona domenica ciao ciao arrivederci alla prossima ciao